Vittoria Schisano, ospite oggi di Domenica Live, 14 febbraio 2021, il programma che viene onda ovviamente di Domenica, condotto dalla brava, bella e simpatica, nonché sempre sexy, Barbara D'Urso, e apparsa raggiante in splendida forma, la bellissima Vittoria Schisano, parlando soprattutto di amore. Sta passando un bellissimo momento, la brava e bella, nonché sempre simpatica e magnifica Vittoria Schisano, pensate che avrebbe disvelato che si sta per sposare, si starebbe per sposare. Tutto pronto, c'è un uomo che è vicino a lei, un uomo che effettivamente parlando l'ama con il cuore, con l'anima, e dunque la bella Vittoria è prontissima. Sembra che stia passando un momento di gran felicità, da come si legge sul web, o meglio da come si vede nella sua presenza di oggi, 14 febbraio 2021, a Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso. Bene, complimenti dunque a lei, il saluto a lei ma anche a voi utenti di Youtube, al prossimo video, questo video non vuole lei dare la sua privacy né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani e basta. Ciao ancora a voi, al prossimo video.